L'abbonato della FEMICZ RIGBIRO VIGO DELTA è un tifoso privilegiato, potendo vivere da protagonista la nuova stagione direttamente al fianco dei bersaglieri. Godrà per la prima volta di benefit come parcheggio riservato, libero accesso all'area hospitality, amichevoli pre-season, t-shirt e cuscini personalizzati ed altri gadget realizzati in collaborazione con Kappa. Sei abbonamenti diversi, un solo grande, cuore, rosso-blu. Il tifoso ha sempre un posto in prima linea. Aspetta, aspetta, aspetta! Cos'è successo, Jordan? La birra! Ah, dimenticavo, nel Platinum la birra, la offriamo noi!